Prima rimane lo Schattier Royale, Cardano, Rampin Line, Liner 360, Rampin Black e Bobby Pikachu. Partezza regolare di questa prima batteria! Forza ragazzi! Passalo, passalo! E andiamo! Chiude questa prima batteria la squadra del Cardano con un tempo di 34,89! Ehi, sono qua due gnocche come noi e non ci guardi! Partezza regolare per questa seconda batteria! Ancora qui il cambio da percorso per poi buttarsi sullo sprint finale e chiudere questa T-Sprint Ecco qua che ci andiamo verso l'addirittura finale, l'ultimo parto del percorso Abbiamo una squadra che ha un buon vantaggio Abbiamo la squadra numero 1,09 Il Cantù che chiude col tempo di 35,56! Bravo Cantù!